L'amatore rugby Alghero vince anche con il rugby Sondrio e Sertori e guadagna altri 5 punti in classifica che la portano a quota 15. La gara, valevole per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone 1, è finita con il risultato di 41 a 7, un successo importante sotto diversi aspetti. Intanto resta l'imbattibilità sul campo casalingo, cresce l'amalgama della squadra e di conseguenza resta alto l'umore nell'intero ambiente. Parlando nello specifico della gara, la cronaca racconta di un primo tempo nel quale le due squadre si sono studiate. Dopo un piazzato di Anversa è stato schenati per gli ospiti a trovare la prima meta di giornata, trasformata da Grillotti. Poi ancora tre punti dell'Alghero sempre a firma di Anversa seguito da una meta di Totò Ceglia, con la successiva trasformazione di Anversa per il momentaneo 13 a 7, risultato con il quale si è chiuso il primo tempo. Al rientro in campo il tabellino vede a segno solo l'amatori rugby Alghero, ben 4 le mete degli algheresi nella seconda frazione, al diciottesimo Grasso, al ventitresimo Peana, alla mezzola Giacci e infine ancora Ceglia. Tutte trasformate positivamente da Anversa. La gara che si è chiusa, come detto, con il risultato di 41 a 7 per gli agheresi, che con i 5 punti guadagnati ora si trovano al primo posto in classifica, a quota 15 insieme al BL Rugby Club. Grazie. Grazie.